HiFlyers Parliamo appunto proprio di Università degli Studi di Napoli Ci dovrebbe essere con noi collegato il professor Bruno Siciliano che tra l'altro se non sbaglio, ma magari sbaglio, era ieri proprio alla conferenza di inaugurazione di Maker Faire e il professor Vincenzo Lippiello HiFlyers ha una peculiarità che è un drone ibrido Uno dei problemi dei droni è quello dell'autonomia e del carico utile e allora bisogna trovare delle soluzioni tipiche dell'ingegneria in modo da ottimizzare la fase di volo e la fase vera e propria che il robot aereo è chiamato a eseguire Grazie 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 Grazie